Mi chiamo Molano Di Giallo, sono arrivato in Italia nel 2017. Da quando ho avuto 18 anni mi sono trasferito nello SPRAR qua e sono qua da quasi un anno o tre mesi. Siamo a Giarre, in provincia di Catania, in Sicilia, e stiamo portando avanti con i ragazzi dello SPRAR di Giarre e il nostro progetto Cultura dell'Accoglienza e Comunità Inclusiva. Con Cittadinanza Attiva siamo andati in giro un po' con i ragazzi che magari conoscevano poco il territorio, abbiamo fatto vedere le parti più importanti, più salienti, il centro storico di Giarre e far conoscere la storia perché non solo bisogna conoscere il territorio perché ti ospita, ma anche la parte, il cuore della città, la storia. Con Cittadinanza Attiva abbiamo fatto anche un progetto di educazione civica per conoscere meglio la società italiana. Questo progetto intende unire i ragazzi in una collaborazione attiva, far emergere le loro capacità, che problematiche ci sono e soprattutto se si sono inseriti nell'ambiente in cui vivono. Un giorno abbiamo fatto anche qualcosa che penso, ognuno di noi vive le sue idee e abbiamo cambiato le idee e sarà molto divertente. Un giorno abbiamo fatto anche un'attività che abbiamo pulito tutta la casa qua e anche la strada venendo da casa nostra qua, fino dove c'è, come si chiama, dove c'è Conforamo, abbiamo pulito un po' la strada. Da maggio infatti che faccio questi incontri, prima li avevo fatti allo Sprar di Bronte ed è riuscito un progetto meraviglioso e anche qui altrettanto bello. Sono emerse parecchie capacità loro e soprattutto la voglia di integrarsi, la loro voglia di capire e di studiare e soprattutto conoscere la lingua. Dall'Italia mi piace la socializzazione, siccome a me piace giocare a calcio, quando vado al campo per guardare la partita ogni tanto alcuni ragazzi mi chiedono se mi piace giocare e mi fanno giocare con loro e questo mi fa davvero piacere tanto. Per questo ai ragazzi li voglio bene e la socializzazione è una cosa che mi piace davvero dall'Italia. Volevo sempre diventare un calciatore, ma ora forse paro il cuoco, perché ora sto facendo un alberghiero e sono già nel ultimo anno, quindi ora vorrei fare il cuoco. Grazie. Grazie.